Una chiamata che ha trovato pronta tutta la città, quella che Team for Children ha fatto con Life and Fashion Show al Teatro Geox, riempito fino all'ultimo posto per uno spettacolo che ha portato sul palco la vita con le sue bellezze e le sue emozioni, ma anche con i suoi dolori. Uno spettacolo per sostenere il reparto di onco-ematologia pediatrica di Padova, culminato con una sfilata di giovani ragazze che stanno combattendo o hanno superato la malattia. Afferrare la vita oltre gli ostacoli, accettando anche l'inverno come una fase necessaria per arrivare a godere di una nuova primavera, non necessariamente intesa come guarigione, ma come capacità di non farsi limitare dalla malattia. Questo è il pensiero che ha accompagnato la serata, fatta di musica, spettacolo e resa ancora più gioiosa dai coristi e dai bimbi del movie chorus, ma anche di testimonianze. Un volto su tutti, quello di Marta Viola, che campeggiava con il capo nudo e vestita da sposa nei manifesti che annunciavano l'evento in tutta la città, è stato il simbolo di questo cerchio della vita, fatto di gioie e dolori, di silenzi e canti. Commossa fino alle lacrime quando ha visto sfilare, negli splendidi vestiti da sposa creati da Rosi Garbo, le sue compagne di avventura. Un inno alla vita che ha emozionato tutto il teatro, un miracolo che i medici dell'onquematologia pediatrica di Padova vedono accadere ogni volta che un paziente inizia la sua battaglia per vincere o convivere con la malattia. E credo che questo possa succedere solo a noi che lavoriamo con dei ragazzi e con dei una vita davanti, vivono sempre i loro momenti come se fossero il primo. Nel nostro reparto ci sono tante difficoltà ma ci sono anche questi momenti. Veramente ringrazio Chiara e attraverso lei e tutti gli altri per aver organizzato questo perché tutto questo non è una cosa isolata, non è fine a se stesso, ma fa parte proprio di un progetto che abbiamo nel nostro reparto per cercare di ridare a queste ragazze quello che la malattia in qualche modo ha tolto. La vita oltre gli ostacoli può essere così difficile ma bella e commovente per la forza inaspettata che ognuno di noi porta dentro per combattere un ostacolo, per stare vicino ad una persona che soffre, anche partecipando ad uno spettacolo che ha lasciato un profondo segno nell'animo di ognuno e che ora, grazie a Team for Children e alla sua presidente Chiara Girello Aziena, si trasformerà in un contributo al reparto e alla ricerca perché le sfide, a quanto pare, non finiscono mai.